Brrrrrr Brrrr 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 Guarda ci sono andato a letto se non andò a riente Brrrr Braffosa e più malevo eh Frrrrmati ma perchè gli avete dato la mia moto per o la? ho idea anch'io o lo troviamo in qualche cassone quella volta che io e lo stefano si è messo a farlo appuntato si? di appoggiarti tanto adesso quanto? un metro e settanta un metro e settanta intanto ce l'avete in zona è inutile che continuate va a fare anche benzina adesso dai vedi alla zona dove è quella zona? via zona 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 entri da qua sotto e viene a fare no no lì alla curvetta tronchetto tronchetto ma l'altra volta mi è volata lui la fa bene in alto no devi stare dentro nel coso dove lui o sopra no dove lui tronchetto sasso figaro c'è un chilometro non ho neanche messo niente metti dove vuoi sasso dietro via 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 una bella dentro e fuori guarda ho rotto anche il funghetto ma bello dentro e fuori ma bello dentro e fuori scendi sasso sasso quale? quello che facevate prima arrivi su qua riscendi da qua guarda che bella lunga a modi questa è una del regionale scendi bordo 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 e uscita no incroci solo questo qua esci qua cazzi tuo vuoi uscire qui? per me è meglio uscire lì se vuoi uscire qua esci qui no l'ho vista anch'io no dentro scendi e stai dentro lì e vieni a fare l'ultimo pezzettino qua dentro lì dentro lì devi stare è quello il bello quindi cosa impari qua? pianta non fare quelle cose che mi sembra la presti sul sasso ti presto la testa poi a fare la terra dammela a me un momento dammela a me un momento che vado aspetta un secondo devo andare a fare la zona mi dicono che non ci sto dentro non è vero vedere vedere se viene una schifezza vieni che è in prima il guidato incredibile ha guidato in prima